Due candidati hanno presentato il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sugli esiti dei concorsi per l'assunzione di personale per ruoli vari al Comune di Caltanissetta. Una situazione che al momento può bloccare l'iter del reclutamento di 38 unità di personale, nonostante le prove si siano ormai definitivamente concluse e le graduatorie siano state già pubblicate. Presentando i ricorsi infatti viene chiesta anche la sospensione dei provvedimenti riguardanti appunto le assunzioni, in attesa che il Tar faccia le proprie valutazioni ed emetta un provvedimento di accoglimento o rigetto. Da parte sua il Comune ha presentato opposizione ai due ricorsi. Già in precedenza la GGL Funzione Pubblica aveva sollevato dubbi su alcuni particolari della procedura di concorso in merito alla soglia di sbarramento che non era stata inserita nel bando. Abbiamo contattato il Comune per approfondire la notizia ma non abbiamo ricevuto risposte e restiamo a disposizione qualora l'ente voglia intervenire.